Non solo Manuli, con i problemi che hanno interessato l'azienda produttrice di tubi in gomma e con le vicissitudini di altre ditte come Bente, El Novico, Itac, eccetera, ci eravamo dimenticati di quella che per anni è stata un fiore all'occhiello dell'industria scolana e cioè la cartiera Ex Mondadori, poi affidata alla multinazionale Alstrom. Ebbene, ad otto mesi di distanza dall'avvio della procedura di mobilità per quasi 200 lavoratori dell'azienda, sembra che sia calata l'attenzione intorno agli operai e alle maestre che sono già da tempo in difficoltà e che a breve, quando finiranno gli ammortizzatori sociali, si troveranno in una situazione veramente drammatica, sia dal punto di vista economico che familiare. Per discutere allora della cartiera, il coordinamento dei lavoratori dell'industria della vallata del Tronto ha promosso un'assemblea che si terrà domenica prossima alle 21. Si tratta di un'occasione di incontro aperta a tutti gli operai e le forze sociali, sindacali, politiche del territorio davanti ai cancelli della cartiera Alstrom, in zona Campolungo. I sindacati parlano di promesse fatte nel recente passato ai lavoratori, tutte promesse dichiarate e finora mai mantenute. In molti si chiedono dove siano i compratori del sito produttivo di cui tanto si era parlato in passato. Si disse che c'erano degli industriali cinesi interessati a mettere le mani sul sito a scolano, ma ad oggi questa grande impresa immensa che vi stiamo mostrando è ancora vuota. All'interno c'è un clima spettrale, le macchine sono ferme da mesi, ormai piene di ragnatele e in molti rimpiangono i tempi della Mondadori, quando i lavoratori della cartiera avevano uno stipendio sicuro e lavoravano in un'area, il Piceno, in cui regnava il benessere diffuso e la tranquillità.